Drone bombardiere traditori, rilevato. Drone bombardiere nemico, rilevato. Drone bombardiere, rilevato. Lina ricerca, esplosione aerea nemica, rilevato. Drone bombardiere nemico, rilevato. Drone restauratore nemico rilevato Mina a ricerca riparatrice traditore rilevata Mina a ricerca riparatrice nemica rilevata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mina a ricerca esplosione aerea nemica rilevata Torretta cecchino traditore rilevata Torretta cecchino nemica rilevata Ha un agente salve aiuto Agente a terra Grazie a tutti Mina a ricerca riparatrice traditore rilevata Mina a ricerca riparatrice nemica rilevata Agente traditore eliminato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti